Timu buonasera, in parole spicce rilassatevi e time out, mi state scrivendo in tantissimi e adesso placchiamo il polverone perché appunto vi siete un po' presi male riguardo alle notizie che non sono più sotto l'azienda Pro Action quindi non sono più atleta pro mascol, ovviamente per quale motivo? Perché sapete anche i contratti hanno una scadenza e quindi anche il mio è scaduto e non ho voluto rinnovare, per questo motivo il codice che utilizzavate per accedere alla scontistica all'interno dello shop integratori Pro Action e Pro Mascol non è più valido, quindi il codice Samantha non è più valido ovvio è che se utilizzate questo tipo di integratori non c'è nessun problema perché ovviamente io come coach do sempre consigli a livello integrativo sportivo perché poi comunque primariamente è importante la vostra salute soprattutto poi che cose riserverà il mio futuro come atleta e come tutta la mia azienda samantapinna.it? non si sa per adesso, tutto top secret comunque ragazzi, di fondo io vi ringrazio sempre tanto 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 perché siete sempre presenti, siete sempre online, siete sempre attivissimi quindi siete fotonici grazie e a domani buona serata, ciao 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 ciao